Io sono molto preoccupato delle 7 milioni di persone che non hanno ricevuto neanche ancora una dose, ovvero chi ha ricevuto due dosi, comunque una difesa per quanto magari non eccezionale, ma almeno nei confronti delle forme più gravi ce l'ha. Poi è chiaro che nelle persone più avanti con gli anni è bene metterli rapidamente in sicurezza ed è quello che si sta facendo, però io sono molto preoccupato di 7 milioni, non sono pochi i 7 milioni di persone, è uno stato grande quasi come la Svizzera che non è vaccinato ed è in qualche modo equamente distribuito su tutto il territorio nazionale in tutte le classi di età e abbiamo moltissime persone tra i 50, i 60 e i 70 anni. Io ho ricoverato nel reparto la settimana scorsa una signora che poi purtroppo non ce l'ha fatta, di 96 anni che non era vaccinata. Attenzione perché abbiamo ancora alcune persone in quelle che sono le categorie più a rischio che non sono vaccinate, perché 85% non vuol dire 100%. Ho capito, ma come facciamo a farle vaccinare? Obbligo vaccinale via, professore? Guardi, io credo che bisognerebbe ragionare a questo punto, almeno per alcune categorie di lavoratori, probabilmente sull'obbligo vaccinale. Io penso per esempio ai dipendenti della pubblica amministrazione, penso a chi ha contatto continuo e costante col pubblico, operatori di pubblica sicurezza, penso al cassiere del supermercato, penso all'autista dell'autobus. Queste persone secondo me dovrebbero avere l'obbligo di essere sottoposte alla vaccinazione. Dopodiché se...